Particolarmente ricordati sono stati, oltre al ruolo del cameriere malpagato e incatenato nel canile e nel minestrone di Sergio Citti, 1981, i personaggi di Fabris in compagni di scuola, 1988, di Carlo Verdone e quello di Mario, lo sposo nelle comiche, 1990, di Neri Parenti, ai quali ha conferito caratteristiche di sensibilità ed umanità, in seguito si è indirizzato verso la la carriera televisiva, interpretando serial di notevole successo come Non Lasciamoci Più, 1999, è Butta la Luna, 2007, di Vittorio Sindoni, nel ruolo dello spregevole Elio Valci.